E' sicuramente il monumento più iconico per una città di mare che ospita la più grande base navale del Mediterraneo. E' il monumento al marinaio posto dal 1974 all'ingresso del canale navigabile, con il consueto saluto dei marinai alle navi della Marina Militare che lo attraversano. Opera dello scultore Vittorio di Cobertaldo donato alla città di Taranto dall'ammiraglio d'armata Angelo Iachino, comandante in capo della flotta italiana della seconda guerra mondiale. A me piace ricordare in particolare il fatto che i marinai sono due. E sono due vuol dire che un marinai non è mai da solo, perché la marina non lascia mai indietro nessuno e questo ci tengo ad evidenziarlo. E prospetticamente mi piace anche evidenziare il fatto che quel rapporto che c'è fra i due marinai, ormai da 140 anni c'è tra la città di Taranto e la marina. E quindi la marina non lascerà mai la città di Taranto e sarà sempre abbracciata, lo è stata e lo sarà per sempre. Il MAP Festival regala alla città il quadro sonoro di Paolo Fresu, dedicato al monumento al marinaio. 50 anni della posa in opera di questo importante e altissimo monumento di bronzo che guarda i mari e che si trova al collegamento tra il mar grande e il mar piccolo. E questo è anche quello che Paolo Fresu nella sua musica ha voluto evocare. Nell'ambito del MAP Festival è stato presentato il quadro sonoro composto dal musicista Paolo Fresu, che lo ha eseguito assieme all'orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano. Quando mi hanno proposto di visitare la città per scegliere un luogo non ho avuto dubbi su questo monumento straordinario, non solo per la sua bellezza, per la sua posizione strategica, ma anche perché rappresenta una storia importante, non solo per la città ma direi per tutto il paese. Per cui ho scritto una partitura lasciandomi guidare dalle sensazioni che ho ricevuto nel vederlo, nel conoscere la storia, che è divisa in due parti, due brani che si chiamano Mar piccolo e Mar grande. Quella di Paolo Fresu ovviamente è un momento, è un quadro unico, incredibile, legato anche strettamente alla storia della città, è una storia che racconta la notte di Taranto, tragica, ma come dice Paolo Fresu, dalla tragedia nasce il futuro.